Gesù piange su Gerusalemme perché ricorda la storia del suo popolo. Da una parte l'amore pazzo senza misure di Dio per il suo popolo e dall'altra la sua risposta egoista, sfiduciata, adultera, idolatrica. Papa Francesco lo ha spiegato nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta commentando l'episodio riportato dal Vangelo di Luca. E Gesù si lamenta anche perché Gerusalemme non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata da Dio, dai patriarchi e dai profeti. Non ha riconosciuto le carezze di Dio. E questo non è un dramma finito con Gesù. È il dramma di tutti i giorni. Ognuno di noi può cadere nello stesso peccato del popolo di Israele, nello stesso peccato di Gerusalemme. non riconoscere il tempo nel quale siamo stati visitati. E ogni giorno il Signore ci fa la visita. Ogni giorno bussa alla nostra porta. ma dobbiamo imparare a riconoscere questo per non finire in quella situazione tanto dolorosa, no? Quanto più li amavo, quanto più li chiamavo, più si allontanava di me. Ma no, io sono sicuro, le mie cose, no? Anche io vado a messa, sono sicuro. Ma tu fai tutti i giorni un esame di coscienza su questo? Oggi il Signore mi ha visitato. Ho sentito qualche invito, qualche ispirazione per seguirlo più di vicino, per fare un'opera di carità, per pregare un po' di più. Non so, tante cose che il Signore ci invita ogni giorno per incontrarsi con noi.